pubblici, non siano più di proprietà privata. Esatto, al giorno di oggi abbiamo un promedio di 500 morti per giorno, un promedio di 27.000 test positivi per giorno e una positività del testeo di 30%, del 30%. È un disastro sanitario, quasi colapsato tutto il sistema di salute. Quindi lui dice che c'è il collasso del sistema sanitario, ci sono circa 500 morti al giorno, 27.000 infettati al giorno e quindi è una situazione grave. Addirittura direi, ma sgrave che la italiana ha ora, perché noi abbiamo 300 morti per giorno, ora, in questi giorni. Però anche noi abbiamo il disastro del sistema sanitario italiano, che ha subito molti ricordi nelle ultime decadze. Decadze. Claro. Acá también. Acá también. È in todo il mundo. È in todo il mundo la politica va a desidero neoliberal. Entonces, somos 15, siamo 15. Possiamo cominciare? Va bene? Sei pronto, Juana? Sì, com' no. Allora, buonasera a tutti. Siamo qui con la ultima lezione del seminario dedicato alla pandemia nello scenario del XXI secolo. Abbiamo fatto varie lezioni, chi ha partecipato ha potuto seguire tutti gli aspetti che abbiamo cercato di trattare di questa pandemia, dagli aspetti sociali a quelli scientifici, a quelli ecologici, a quelli lavorativi, insomma, tutte le ricadute che ha avuto questo virus nella società attuale e non limitandoci esclusivamente alla società italiana. Perché la nostra prospettiva è una prospettiva, diciamo, internazionalista. Oggi abbiamo come gradito ospite, bienvenido, Juan Duarte, che è uno psicologo ed è docente dell'Università di Buenos Aires. È responsabile della sezione Scienza del giornale online argentino La Eschierda Diario e della collezione Scienza e marxismo di edizione IPS, casa editrice del Partito dello Stravagatore Socialista. Ha curato una serie di libri, che cito brevemente, Genes Cellulas i Cerebros, e poi ha curato ultimamente la biologia in questione. Saggi dialettici sull'ecologia. Quindi si è occupato di tutti quegli studiosi di orientamento marxista che hanno affrontato le questioni della scienza e le sue relazioni con la dialettica, studiosi tra i quali menziono Rob Wallace, Stephen e Hillary Rose, Richard Lewontin, Richard Levins e Stephen J. Gould. Do la parola a Juan. Grazie a tutti. e grazie a tutti e a tutti per la invitazione. e grazie a tutti. Grazie a tutti. Per non estendermi molto in tempo, le puse come titolo a queste parole dialettica e scienza in la crisi pandemica, è un tema molto ampio. In questa breve exposizione vorrei provare alcuni apporti possibili di una mirata dialettica marxista per comprender la complessità che pone in giù la pandemia del Covid-19 e elaborare aspecti programattiche per affrontarla da una perspectiva anticapitalista e socialista. Parati, grazie. Sì, ah sì, vabbè, sta bene. Allora, diciamo che oggi va ad affrontare una problematica alquanto ampia e basta, incentrandosi sul tema della relazione tra dialettica e scienza da un punto di vista marxista, vedendo se da questo punto di vista possiamo ricavare elementi per affrontare il grave problema della pandemia. Per questo voglio esbozzare il lavoro di recuperazione e di ricreazione della tradizione marxista in scienza, ecologia e salute che veniamo facendo da edizioni IPS e la Esquerda Diario centrandomi, come dice Alessandra, nei supporti dei biologi marxisti Richard Levontin e Richard Levins e dell'equipo del biologo anche Rob Wallace. Per sviluppare questo argomento recupererà la tradizione di studi che hanno sviluppato nell'ambito del loro gruppo e si riferirà a quei biologi marxisti che ho già citato tra i quali ricordo Lewontin, Levins e Rob Wallace. Il sorgimento e il desarrollo della pandemia del coronavirus non solo ha dato lugar a una crisi sanitaria, economica e sociale mondiale nel marco di una crisi ecologica e climatica previa, ma che ha posto in question las miradas scientificas predominantes nel campo della salute? Allora, l'emergere della pandemia ha avuto delle conseguenze amplissime perché si è manifestata nell'ambito di una crisi ecologica e biologica precedente e nello stesso tempo ha rimesso anche in discussione l'approccio scientifico diciamo tradizionale. Come segnalano Richard Levontin e Richard Levins podemos dire che la ciencia tiene un carattere dual por un lato è il desarrollo generico del conoscimento umano però por l'altro è un prodotto specifico cada vez mercantilizzato nella industria del conoscimento capitalista. Come dicono Levins e Levontin e la scienza ha un carattere oggi come oggi ambiguo duale perché da un lato dà impulso allo sviluppo della conoscenza umana dall'altro è legata al sistema economico mercificato capitalistico. This implica un desarrollo desigual caracterizzato por una sofisticación creciente a nivel del laboratorio y los proyectos de investigación pero por una creciente irrazionalidad dell'empresa científica en su conjunto lo que a su vez redunda en un patrón de conocimiento e ignorancia donde predominan enfoques reduccionistas mecanicistas y dicotomicos y una fragmentación disciplinar que nos deja impotentes a la hora de abordar la complejidad de fenómenos como la pandemia. Allora, questa situazione di ambiguità, di duplicità della scienza nella società capitalistica provoca uno sviluppo disuguale che genera frammentazioni, segmentazioni, separazioni in alcuni casi nelle quali in alcuni casi predomina il riduzionismo quindi tutta una serie di elementi che non ci forniscono strumenti adeguati per affrontare un fenomeno così complesso e difficile quale la pandemia. Frente a esto voy a intentar mostrar algunos aspectos de por qué la dialéctica marxista puede aportar una visión superadora que nos permita comprender los orígenes de la pandemia las contradicciones que explican su desarrollo y las necesidades y posibilidades estrategicas que se abren para la acción revolucionaria anticapitalista. Di fronte a questa situazione della scienza ufficiale se la vogliamo chiamare così Juan cercherà di mostrare come la dialettica marxista può superare le impasse presenti nella scienza ufficiale mostrando quali sono le possibilità di affrontare questo grave fenomeno non solo in un'ottica conoscitiva ma anche in un'ottica trasformativa e rivoluzionaria. Las reflexiones sobre ciencias naturales desde il marxismo se remontan a las obras mismas de Marx y de Engels. Marx se valió de los descubrimientos y teorías de su tiempo para desarrollar su critica al capitalismo en particular para examinar la relación entre los seres humanos y la naturaleza. E diciamo che ovviamente questo approccio che lui propone ha le sue radici nell'opera e nella riflessione di Engels e Marx in particolare si è occupato della questione della relazione tra gli esseri umani e la natura. Y no solo en la obra de Darwin de quien consideraba que había establecido las bases para una interpretación puramente materialista de la vida y puesto en evidencia que la naturaleza tiene historia sino la de muchos otros científicos y científicas a quien estudió profusamente. Naturalmente Max si richiamò agli autori del suo tempo che avevano affrontato in maniera scientifica queste questioni non solo all'opera di Darwin che aveva dato una visione materialistica delle questioni che stiamo affrontando ma anche si richiamò all'opera di altri autori contemporanei per example a partir de la teoría mineral del científico Justus von Lievich desarrollò el concepto de fractura metabólica que hoy es retomado para problematizar el desastre ecológico generado por el capitalismo e solo recientemente se están conociendo sus quadernos de ciencias naturales e su concepción de la naturaleza en este sentido el trabajo de John Bellamy Foster y otros como Koei Saito que acaba de editar estos cuadernos en la recuperación de estos trabajos es clave para pensar en ecologia es sumamente valioso Allora adesso i nomi che hai citato los nombres que tu menzionaste no lo si entendí bien comunque Marx si richiamó a una serie di autori in particolare uno che parló di frattura metabolica frattura metabolica o me parece rottura nel ricambio organico tambien in italiano non so giodesimó ah sí ricambio organico una serie di autori che appunto avevano messo in evidenza come in una certa fase storica che era appunto quella che si viveva nell'industrialismo si era realizzata questa frattura tra l'uomo e la natura che veniva appunto definita frattura metabolica puoi ripetere l'os nombres de l'os autores che mencini si uno è giustus von lieve giustus von lieve von lieve e poi il trabajo di recuperazione di l'a obra di l'aspecto di l'a obra di marx lo che sta haciendo john bellamy foster della rivista monthly review è molto importante e a noi interessano particolarmente per pensare il problema ecològico e poter elaborare strategie egemonia obrera e anticapitalista allora se ho capito bene come marx fece per le sue osservazioni antropologiche e ha compilato quaderni notebooks in cui ha raccolto una serie di riflessioni sulla scienza naturale e voi vi richiamate a questi quaderni che vengono pubblicati a cura di un autore che di cui non ricordo il nome nella monthly review lo mismo podemos decir con la obra di Engels in ciencia che ha dato lugar a diferentes corrientes di scientificas e scientificos marxistas para no extendermi mucho puedo nombrar por ejemplo los aportes de Conrad Waddington o Ivan Schmalhausen che sono muy importantes hoy en ecologia y en biologia Anche l'opera di Engels penso la dialettica della natura dialettica naturaleza anti durin y otras más l'opera di Engels ha dato impulso a studi sempre in questa ottica in questa prospettiva tra i quali vengono menzionati vari e io ricordo Waddington tra gli altri si y para poner otro ejemplo más de la ciencia post revolución rusa podemos hablar de la obra de Lev Vygotsky que ha elaborado un programa de investigación en psicología que recién hoy se está revalorizando con conceptos como zona de desarrollo próximo o con su investigación sobre el significado como unidad de análisis de los procesos psicológicos superiores solo para poner algunos ejemplos de la potencia del marxismo en ciencia allora sempre semplicemente fare alcuni esempi perché ci sarebbero tanti autori da menzionare un altro autore muy molto importante Lev Vygotsky il quale studiò lo sviluppo dei processi conoscitivi e in particolare soffermandosi sul passaggio da quelli di livello inferiore a quelli di livello superiore e quindi anche questo psicologo si mosse all'interno di questo approccio marxista scientifico marxista che si presenta come alternativo agli approcci invece propri della scienza diciamo più inquinata dal capitalismo oppostos, il desarrollo a partì della contradiccione, concepti come livelli di integrazione, entre altri, che permette di sviluppare creativamente metodi, teoriche e concepti specifici in cada disciplina. Osea, fare scienza in cada disciplina e dar cuenta della complessità e delle possibilità concreti dei fenomeni studiati in cada campo. Diciamo che questi studi, queste riflessioni, questi autori hanno elaborato, hanno portato avanti la dialettica materialistica, la quale ha mostrato di essere in grado di superare le problematiche presenti nella scienza pre- o antidialettica, soprattutto studiando i fenomeni più che come entità date, come processi. E nello stesso tempo consentendo alle varie discipline, sia pure nell'ambito complessivo di questo approccio, di sviluppare le proprie metodologie, le proprie tematiche, le proprie soluzioni ai problemi che venivano ponendo. ha una seconda generazione di scientifiche e scientifiche marxistiche, che surge in la década di 60, cuestionando i usi reaccionarii della scienza, reconociendosi come lavoratori e combatendo il racismo, il sexismo e la explotazione con colectivi come Scienza per il Pueblo e la scienza per il Vietnam. Da lì surgeno autore come Stephen Sheigold, da lì surgeno autore come… Sì, di. Adelante, adelante. Allora, di è una seconda generazione, io leì tu prologo al libro, c'è una seconda generazione di studiosi di questo orientamento che è sorta negli anni sessanta, gli anni della contestazione dell'opposizione alla guerra al Vietnam, che operarono a livello scientifico, ma anche a livello politico, lottando contro il razzismo, il sessismo. Una di queste organizzazioni si chiama Science for the People, la scienza per il popolo. E a queste partecipò, per esempio, Lewins e studiosi di questo genere, sempre nell'ottica di far sì che la scienza fosse qualcosa di utile e di rivoluzionario all'interno della società capitalistica. Allora, da la editorial Ediciones IPS, noi abbiamo proposto rescatare le elaborazioni di questi autori che tu hai nombrato prima, per questo abbiamo editato Genes, Cielurasi e Cerebro, del neurocientifico Stephen Rose e della sociologa della ciencia Hillary Rose, e recentemente abbiamo editato La Biologia in Cuestione, il libro che abbiamo traduzito in traduzioni originali e abbiamo editato La Biologia in Cuestione, che è il libro di Lewontin e Levins. Creiamo che resultano apporti molto valiosi per pensare la scienza, la agricoltura e la salute nel capitalismo, e in particolare per il scenario pandemico, come voglio esplicare ora. La loro casa editrice ha fatto una scelta politica molto giusta perché ha tradotto e pubblicato i libri di questi autori che abbiamo già menzionato, quindi non sto a ripetere, i quali si pongono appunto il problema della natura della scienza nella società capitalistica, il problema della salute, il problema dell'agricoltura, quindi tutti aspetti che sono strettamente intrecciati e sono legati alla questione dell'insorgere della pandemia con la quale stiamo ancora combattendo. Bene, vorrei parlare di alcuni apporti del libro di Lewins e Levontin. La pandemia, una questione che surge quando vediamo che la pandemia viene annunciandosi, la pandemia del coronavirus viene annunciandosi ha quasi 20 anni e di qualche modo ha tomato per sorpresa al mondo scientifico di salute e sin risposta incluso a la industria farmaceutica. Bueno, esa es una pregunta sobre la quali deberíamos pensar. e come può essere che arriviamo a questo punto. Tuviamo il brote di SARS-CoV il primo in 2002, il di MERS in 2012, la influenza porcina N1H1 in 2009, entre varios altri, molti, molti altri, però arriviamo a questo punto con questa sorpresa in dei campi scientifici, della salute e, diciamo, dei abordaggi. Che è lo che passò? Juan parte dal libro che lui ha curato insieme a un suo collega, cioè La biologia in questione di Lewins e Levontin, che può essere utile per dare una risposta a queste complesse domande. In fin dei conti sono circa 20 anni che le prime epidemie di questo genere si sono manifestate e quando poi nel 19 è apparso il Covid o la Covid-19, sia la scienza ufficiale, sia il sistema farmaceutico dominante si sono dimostrati totalmente sorpresi e incapaci di affrontare la questione. E quindi vediamo di capire perché. In su libro, Levontin e Levinson, discuten in un capítulo, sobre una doctrina, che è la doctrina della transizione epidemiologica, che in su momento che ha accennato in un'epidemia di più di sviluppo che gli effetti che si erano bini, che ha dato spettato di sviluppo di sviluppo di spettato di sviluppo di sviluppo di Allora diciamo che la scienza ufficiale era rimasta legata alla cosiddetta dottrina epidemiologica, secondo la quale le malattie infettive ormai si stavano estinguendo e quindi non valeva la pena studiarle. E diressero il loro interesse verso malattie come quelle legate al cuore, al cancro, eccetera, eccetera, trascurando invece le malattie infettive e quindi dobbiamo porci il problema del perché ciò è avvenuto. Esa dottrina si appoggiò in tre argomenti, la riduzione delle infezioni infezioni negli ultimi 150 anni, il sviluppo tecnologico di laboratori, droghi, antibiotici e vaccini e la dottrina del sviluppo economico. Allora questa dottrina epidemiologica si è fondata su tre presupposti. Primo, la riduzione delle malattie infettive, aggiungo io, riduzione che però non significa desaparizione, scomparsa, perché sia in Presigen, per esempio in Africa, no? E lo sviluppo tecnologico dei laboratori, che quindi avrebbero potuto approntare rimedi adeguati, e lo sviluppo economico, che avrebbe migliorato le condizioni di vita degli esseri umani. Però, incurrierono una serie di olvidati. Prima, senza una perspectiva storica, tomaron un lapso di tempo demasiado breve e olvidarono che, come mostrò già la crisi del feudalismo o la misma revoluzione industrial, cada cambio di invergadura che si produce in una determinata società, la popolazione, nel uso della terra, o nei cambiamenti del clima, la nutrizione o la migrazione, sono anche eventi di salute pubblica che vengono dalla mano con un proprio patrón di malattie. Allora, questa dottrina epidemiologica è caratterizzata da una serie di dimenticanze, ed è stata elaborata tenendo conto di tempi molto brevi, e quindi non hanno pensato alla lunga durata, quello che Brodell chiama la lunga durata. E, in particolare, non hanno tenuto conto che ogni cambiamento profondo, strutturale, per esempio nell'uso della terra, cambiamenti di clima e eventi generali complessivi, comportano tutta una serie di cambiamenti anche ai livelli dello stato di salute degli esseri umani. Per esempio, la deforestazione, i progetti idroelettrici giganteschi, a cui stiamo ancora assistendo, e l'utilizzo sempre più esteso della monocoltivazione generano nuove malattie. E poi dimenticarono anche il problema dell'interrelazione tra animali, esseri umani e piante, dai quali scaturiscono anche altre forme di malattie, come per esempio la febbre porcina. Asimismo, non prestarono attenzione all'evoluzione o all'ecologia delle interazioni tra specie, a che, per esempio, il parasitismo è un aspetto universale, e a che le grandi agglomerazioni di cultivos, animali o persone sono opportunità per virus, ongoli e bactere. Ah, e inoltre non tenne in conto la questione dell'evoluzione della specie, e al fatto che la grande agglomerazione, la grande unificazione di animali in uno stesso luogo, facilita la proliferazione dei virus e la loro propagazione. Ah, è qualcosa molto importante, mi sembra. non hanno tenuto conto che quella che loro chiamano guerra agli elementi patogeni, provoca delle reazioni degli stessi elementi patogeni, che poi si riversano su coloro che tentano di sterminarli. Inoltre, e questo è un tema di straordinaria importanza, al mio vedere, lo sviluppismo, se lo vogliamo chiamare così, cioè l'idea della crescita continua, no? Non ha portato né ricchezza né salute, se non a una minoranza, e una scienza fondata esclusivamente su microrganismi, cellule, microbi, eccetera, eccetera, non è in grado di affrontare i grandi problemi di cui deve tenere conto oggi l'umanità. Alla uno di questi aspetti sono presenti nel origen e nel desarrollo della pandemia del coronavirus. La deforestazione e la destruzione ecològica che fa che il SARS-CoV-2 possa circolare zoonoticamente tra murcielagos e l'umanità, il discurso di guerra contro il virus centrato solamente nelle vaccini, e l'olvido della evoluzione del mismo virus permitida per condizioni sociali e politiche e economiche che fa proliferare nuove varianti più contagiosi, letali e con scape d'immunità frente a contagiosi previosi e vacunati. Tutti questi elementi che abbiamo citato, quindi la deforestazione, la monocoltivazione, 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 monocoltivazione e deplanta, però in italiano cultivo non si dice. L'allevamento unico, intensivo delle piante, degli animali, stanno alla base dell'insorgere di questa pandemia. Per esempio, la deforestazione ha fatto sì che i virus di cui sono portatori i pipistrelli fruggiferi della Cina si siano trovati in contatto con gli esseri umani, non essendoci più barriere che si frappongono. Quindi, come dire, mentre la scienza ufficiale, io cerco di interpretare più che di tradurre letteralmente, mentre la scienza ufficiale è una scienza che si fonda sull'individuazione di elementi singoli, l'approccio di Alessio è un approccio che possiamo definire totalizzante, olistico e che quindi guarda il fenomeno pandemia in tutte le sue interrelazioni. E quindi evita il dannato e condannabile riduzionismo. Molto bene. Asimismo, la negativa a enfocarsi in gli sistemi pubblici di salute e in le condizioni sociali per le quali circula il virus, e profundizzando, al contrario, ancora più, la precarizzazione, la desigualdà e la opresione, come possiamo vedere, hace più di un anno con la enorme disparità in la letalità in poblazioni trabajadoras in tutto il mondo, in particolare afroamericanos, latinos, pueblos originari in Estados Unidos, in qualche parte del mondo, e nel conjunto della classe trabajadora, che non ha fatto più che aggravarci. la strada alternativa che viene proposta da questa visione dialettica marxista è quella di porre l'attenzione a tutti quei fenomeni di peggioramento delle condizioni di vita degli esseri umani, di precarizzazione lavorativa, di lavoro informale, tutti elementi che sono stati messi in evidenza, cioè il loro legame con la malattia è stato messo in evidenza dal fatto che questo gruppo sociale, che poi deve essere identificato con gli strati più bassi della popolazione, è quello che è il risultato più vulnerabile agli attacchi della malattia. E qui ci sono statistiche che ci dicono che, per esempio, gli indiani e nordamericani sono tra i più colpiti, gli afrodiscendenti anche negli Stati Uniti, i latini anche, eccetera, eccetera. E anche in particolare i lavoratori informali, i quali non hanno potuto rispettare nessuna misura di quarantena, perché devono andare ogni giorno a lavorare, eccetera, eccetera. In su articolo, che è di 1996, Levantin e Levins preguntano qualcosa che ci potremmo di oggi, e si chiedono perché questa estrechezza di miras che impide di sviluppare un'epidemiologia coerente. E appuntano al pragmatismo e la sua impazienza frente alla teoria, per esempio la teoria dell'evoluzione e la teoria ecologica. In un articolo del 1996, quindi di qualche decennio fa, Levantin e Lewin, appunto gli autori di questo libro La biologia in questione, se la prendono con questa incapacità di affrontare in maniera complessiva questo fenomeno e in particolare con la tendenza, io direi proprio tipicamente nordamericana, al pragmatismo, che cerca di, come dire, di non affrontare in maniera approfondita le relazioni tra pratica e teoria. Grazie a tutti. L'infeczioso, alio cronico, eccetera. Questa impostazione, che ovviamente viene combattuta da questi due biologi dialettici, non fa che portare alla segmentazione, alla iper specializzazione, alla frammentazione della ricerca scientifica, che poi si va a focalizzare su false dicotomie, che sono per esempio biologico e sociale, malattia, salute, false dicotomie, dalle quali poi non si riesce mai ad uscire, perché lo sforzo invece di questi autori è di trovare una mediazione, per quello che ho capito, appunto tra biologico e sociale, transnaturale e culturale. A la pregunta di di dove viene questi sesgos teòrici, gli autori contestano di la seguente maniera, cito, sono modi caratteristiche di pensamento che imperano nel capitalismo, mentre che il individualismo del sujeto economico è un modello che conduce a abordare tutti i fenomeni in forma aislata e autonoma. A questo si agrega una industria del conocimento che transforma le idee scientifiche in mercantia destinata al mercato, precisamente le azioni magiche che la industria farmaceutica le vende a la gente. La industria a largo plazo della esperienza capitalista fomenta que queste idee che sono rafforzate per la cultura, le organizzazioni, la economia, la industria del conocimento e contribuono a creare patroni speciali di illustrazione e ignoranza caratteristiche in diversi campi e che tornano inevitabili il sorgimento di determinati sorpresi relazionati con queste. Diciamo, cerco di riassumere che questa impostazione scientista è strettamente legata ovviamente all'economia capitalistica che produce come dire elementi tra di loro isolati come se fossero entità autonome e quindi evitando mettendo da parte qualsiasi visione complessiva totalizzante della realtà. Ma questo questo modo di vedere le cose ha una sua ragione perché questi elementi isolati pensate al vaccino per esempio si trasformano immediatamente in merci che poi vengono messe sul mercato e garantiscono ampi guadagni ai loro produttori. Quindi è una scienza che produce elementi assestanti si potrebbe dire quasi monadi monadi assestanti e non vede la struttura delle relazioni che li abbracciano. frede a questa situazione Levin e Levantin analizzano per esempio altre visioni alternativi di cui participano per esempio la visione di salute del ecosistema che per esempio demostra che la ecologia humana è determinata per la struttura di classe della società e per esempio hablan di concepti come fisiologia socializzata che analizza come la presione sanguina e il impatto del estres cambia segun la posizione social per esempio o che facendo che non sia una exagerazione parlare del páncreas nel capitalismo o il pulmone della classe obrera a partir di investigazioni scientifica concretas che realizzano ellos ora come si cercava di mostrare insomma io credo di essere riuscita a dare un'idea della impostazione che viene seguita da Juan sulla scia di questi studiosi in realtà il coloro che vivono all'interno di un sistema capitalistico sono fortemente condizionati dal sistema stesso cioè a seconda del sistema sociale nel quale si vive la nostra salute il nostro sistema organico funziona in maniera differente tanto che questi autori Leigh Wins e Leigh Wanting hanno sviluppato per esempio il concetto di fisiologia socializzata mettendo in evidenza come l'appartenenza di classe condiziona le nostre reazioni all'ambiente e d'altra parte noi sappiamo benissimo che una persona che fa il manovale vivrà molto meno rispetto a una persona che fa l'intellettuale perché il tipo di stress di energia impiegati durante la loro vita sono fondamentalmente diversi con una perspectiva è una necessità per pensare in salute e concretamente come questa corrente ha dato il lavoro dell'equipo di Rob Wallace e del suo equipo del quale voglio parlare Allora Allora diciamo che da questa impostazione nascono una serie di gruppi che portano avanti una visione completamente diversa della scienza da cui però si ricavano delle conseguenze pratiche tra i quali viene menzionata la giustizia ambientale o anche diciamo quanto viene tratto dall'opera di Engels tutti elementi che vengono veicolati in una visione critica del capitalismo e in particolare per mettere in evidenza come le diverse condizioni di vita fanno sì che la vulnerabilità di ciascuno di noi può essere aumentata a seconda dello stile di vita che non è che sceglie liberamente cui è costretto a vivere dalla stessa struttura sociale vigente e ora si soffermerà sull'opera di Rob Wallace che ha dato un grande contributo a questo tipo di impostazione che è autore ricordo del libro big farm make big flu cioè le grandi fattorie producono grandi malattie in altri libri come neoliberale ebola eb epidemiologista ora Wallace e su equipo señalan che che si bien algunos patógenos emergen directamente de los centros de producción por ejemplo la salmonella o campylobacter altri come SARS-CoV-2 se originan en las fronteras de la producción del capital almeno del 60% de los nuevos patógenos humanos emergen al extenderse desde los animales salvajes a las comunidades humanas locales propulsadas por la agricultura mercantil y la producción industrial de animales como cerdos aves bisones etc Aldora Rob Wallace e la sua equipe di studio ha messo in evidenza che gran parte la maggioranza di queste nuove pandemie sono determinate dal fatto che diciamo la separazione tra la società umana e i sistemi di allevamento intensivo è completamente saltata e quindi ciò rende molto più facile il passaggio da virus che sono tipici del mondo animale agli esseri umani e quindi questo processo è strettamente legato all'economia capitalistica mercificata aggiungo se mi permetti che non se si si me puoi entendere otro studioso dico che hoy solo il 4% de los animale siguen siendo salvaje los altri creo che il 55% sono todos animali criati solo il 4% di animali sono selvaggi il 55% vivono in allevamenti poi intensivi brutali come dice Ross Wallas cada vez más somos un planeta granja estamos rodeados por grandes concentraciones de animales genéticamente similares inmunodeprimidos y atestados de antibióticos que son las condiciones ideales para la generación y evolución de patógenos o sea la producción industrial de animales y el agronegocio producen pandemias en gran escala quindi come dice Wallace qualcosa che è simile a quello che ha detto Burgio noi siamo una grande fattoria un grande allevamento intensivo che è popolato da animali immunodepressi tutti simili tra di loro distrutta la biodiversità che sono allevati con gli antibiotici e tutto ciò crea l'ambiente ideale per il sviluppo della pandemia l'ambiente 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 il l'ambiente Wallace e il suo per esempio parlano Structural One Health Una Salud One Health è la corriente che propone la OMS e la FAO che parte di integrare la salute animal e la salute humana frente a questo Wallace e il suo equipo señalan che questa vision è incompleta e che oculta le cause del origine di nuova pandemias e di questi patogeni e che sta a medida del agronegocio e termina culpabilizzando le pratiche culturali dei diversi poboli per l'emergenza dei patogeni si credo di aver capito allora diciamo che le organizzazioni internazionali tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ritengono che sia possibile stabilire un equilibrio tra la salute umana e la salute animale e quindi diciamo che sono sostenitori dell'attuale sistema produttivo finendo colpevolizzare le diverse pratiche di coltivazione e di allevamento culturali attribuendo a quest'ultima la causa della pandemia mentre dal punto di vista di Wallace della sua equipe è il contrario è proprio questa distruzione delle economie tradizionali di produzione tradizionali che invece porta all'insorgimento delle pandemie ose la produzione di commodities per medio della agricoltura industrial e il agronegocio nel sud global che stanno integrati da maniera flexibile a partir di ecologiche e fronteriche politiche che produzione nuove epidemiologiche nel cammino che terminano circulando in l'altro extremo del desarrollo dei diversi paesi per formas di habitabilità per esempio le desacotate formas peri urbanas e che aprovechano déficit della salute e saneamento ambiental per che los virus circulano alcanzando nivelli globali questa è la dinamica che che explica sì entiendo quindi queste forme di allevamento intensivo che sono strutturalmente legate a quello che viene chiamato l'agronegocio cioè la mercificazione per il profitto più sfrenato di quanto è necessario alla nostra alimentazione e a cui dobbiamo aggiungere qui mi pare un concetto di Harvey i fenomeni di suburbanizzazione cioè l'estensione delle città con quartieri o poveri o residenziali con grande affollamento di persone fanno sì che si producano questi virus e che poi si diffondano abbastanza rapidamente e poi dobbiamo aggiungere che non viviamo più all'epoca della peste nera quando lo aggiungo io quando per esempio la peste fu portata lungo la via della seta e ci mise mesi se non anni noi viviamo in un mondo con grandissime comunicazioni e quindi ovviamente i virus si espandono e si diffondano proprio rapidamente nel giro di un giorno due giorni quindi quindi le epidemiologi di gli 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 si 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 e il sars come dice alessandra al dia siguiente di aver salito di una coda di murcielagos in china può circolare al altro del mondo in New York però come già lo abbiamo visto con otros virus come el ébola il zika la malaria la fibra amarilla che evoluzionaron relativamente poco e se convirtieron en amenazas regionales si e digamos estos circuitos del capital hacen que virus che ya venían previamente sin sin ninguna necesidad de otra evolución se convirtieran en amenazas regionales e quindi diciamo che si tratta di processi essenzialmente relazionali diciamo che questi virus si sviluppano in certi contesti favorevoli e che poi rapidamente si diffondono e tutto questo però come dire non è un fatto casuale è dovuto al cambio di infrastruttura generale della società capitalistica ciò che prima non era pericoloso perché magari rimaneva limitato in una certa zona oggi nelle condizioni attuali si trasforma in una pandemia o ci sono alcuni che dicono sinde mia pandemia argentina è una di per esempio argentina è una di le repubbliche della soja della zona dell'atino amica e è un esempio di questo durante la pandemia la agenda extractivista del paese per esempio di mega mineria fracking per la extraczione del petrolo e gas o il agronegocio che desmonta gran parte del paese così come in brasil il amazon non se detuvo durante la pandemia e incluso llegaron a ver in la pandemia in la epidemia di peste porcina africana de china una oportunidad per externalizzare il rischio chino hacia argentina e instalar mega granjas porcinas en argentina similares a las que originaron in su momento la gripe A si y esto fue promovido en argentina por el mismo empresario que en su momento se enriqueció produciendo la vacuna para la gripe A y que hoy a su vez tiene consiguió el negocio de producir la vacuna de AstraZeneca en el país de la cual como decíamos antes se produjeron 44 millones de dosis que se exportaron a Estados Unidos y a México y de las cuales todavía no vimos ni una digamos la agenda extractivista del agronegocio está muy ligada a la producción científica en el país y está este empresario por ejemplo tiene una de sugerenta es a su vez directora del centro científico estatal con Icet en Argentina mi pare que Juan mette en evidenza una serie de gravísime contraddizioni allora ha sottolineato que la soya y que la Argentina es una de las más productrices insieme al Brasile de soya e quindi questa produzione ovviamente è fatta sull'allevamento intensivo della soya e un grande consumatore della soya per quello che so è la Cina l'Argentina ha buoni rapporti di scambio commerciale come tutti i paesi dell'America Latina con la Cina nonostante la pandemia stava sottolineando Juan i processi di estrattivismo cioè di accaparramento delle risorse naturali compreso il fracking cioè la produzione di petrolio con metodi chimici altamente dannosi e inquinanti sono continuati e perché tutto questo è legato alla questione del profitto e dei super guadagni e ha messo in evidenza Juan questa contraddizione che colui che è stato Sigman mi pare Sigman il produttore dei vaccini AstraZeneca che poi sono stati esportati negli Stati Uniti e in Messico è colui che nello stesso tempo si è messo a produrre non mi ricordo che si non volviò ninguno non ha ritornato ninguno però ella ora sta occupata in produzione che in suo momento questo empresario produjo la vacuna per la gripe A nel 2009 la pandemia anteriore in questo momento ha un accordo con la Cina perché i cinesi dati gravi episodi di febbre porcina che si sono verificati in Cina i cinesi tentano di esternalizzare la produzione di maiali e quindi hanno comprato territori in Argentina e vanno ad installare lì delle grandissime fattorie di allevamento dei maiali e in questo modo mettendo a repentaglio la salute di coloro che vivono nei pressi di queste fattorie e quindi l'ottica è sempre quella del profitto ha sottolineato Juan che è un personaggio importante che lavora una donna una mujer che lavora nel centro di ricerche scientifiche argentine il conisette se ho capito bene è anche consigliera di questo impresario quindi vedete come i legami tra scienza e agronegozio sono molto stretti sono le relazioni del capital e sistema scientific bene contra il reduccionismo biologista imperante nel campo della salute Walla señala che la premisa operativa è che la causa del covid e altri patogeni similiari non se encuentra solo en l'objeto di algún agente infeccioso o su curso clínico sino anche nel campo di le relazioni ecosistemicas che il capital e altre causazioni strutturali ocultan constantemente in suo beneficio sono le causazioni strutturali di mercantilizzazione capitalista e le messe che generano questa fractura metabólica che señalava Marx respecto al impacto della irracionalità capitalista sobre il medio ambiente che sta in la raiz della crisis ambiental quindi diciamo che è stato messo in evidenza la stretta relazione tra scienza ma scienza diciamo c'è un bel libro che è intitolato immagini della scienza in italiano ci sono diversi modi di immaginare la scienza no scienza ufficiale no e profitto e capitalismo la scienza ufficiale e capitalismo ci portano verso le pandemie ci sono altre possibilità di ricerca scientifica che ci fanno uscire da questa da questa situazione senza soluzione apparente e ritroviamo diciamo queste questo tipo di approccio nella tradizione marxista che poi è stata sviluppata da tutti quegli autori che sono stati menzionati e che sono autori antiriduzionisti che hanno una visione diversa della scienza e che sono orientati verso una visione fortemente dialettica che non diciamo contrappone uomo e natura biologia e società ma li coniuga come se fossero una totalità a la ora del desarrollo della pandemia si abri una pregunta sobre los diferentes abordaggi epidemiologiche las estrategie epidemiologiche si e e e me quería referir a un un debate che se dio entre al principio della pandemia dove se contraposero la perspectiva di dejar correr la pandemia di gobierni come il di Boris Johnson o il Trump a una necesidad sanitaria de suprimir los contagios si este debate digamos fue tuvo una figura importante en el Imperial College de Londres y el Imperial College dio una serie publico una serie de artículos donde propuso una estrategia de abrir y cerrar la economía a medida que suben y bajan los contagios para no saturar el sistema de salud frente a este a este planteo el planteo de Rob Wallace y su equipo es sumamente valioso porque porque la crítica que hacen a este a este planteo que por ejemplo diferentes gobiernos en todo el mundo lo han aplicado por ejemplo al gobierno argentino el planteo que hacen retomando a Levins y Levontin es que es necesario una estrategia epidemiológica que incorpore en los modelados en los modelados epidemiológicos las causas que dieron origen a la pandemia a la pandemia diciamo che innanzitutto questi autori che si richiamano a questo approccio hanno sviluppato non è che sono dei teorici così tra le nuvole ma hanno sviluppato ricerche concrete con dati e quindi hanno diciamo comprovato le loro teorie ampiamente è stata praticata inizialmente da Trump negli Stati Uniti da Boris Johnson in Inghilterra e poi Bolsonaro in Brasile poi si sono riveduti diciamo hanno cambiato idea un po' tardi però ecco oppure l'altra strategia è quella di sopprimere di limitare i contagi ora il difetto di queste allora questa seconda strategia ci dice Juan è stata sostenuta dall'Imperial College di Londra che ha pubblicato una serie di articoli ora queste strategie hanno il grande difetto di vedere solo come dire gli aspetti più esteriori del problema ma non vanno a ricercare le cause infatti noi vediamo in Italia per esempio che nessun governo fino adesso ha preso nessuna misura per affrontare il problema relativo all'allevamento intensivo nessuno cioè i problemi ecologici sono stati messi da parte ci si preoccupa sì in maniera così generica stratta del cambio climatico l'ecologia ma misure specifiche concrete non vengono presi senza che i costi riconosciano sui lavoratori, cioè che stanno a caro dei capitalisti che sono relacionati con le cause strutturali della pandemia. E, peraltro, le mesi basi come socializzare i prodotti farmacettici di produzione o la unificazione e la nazionazione dei sistemi di salute pubblici e privati. Allora, diciamo, io ho dimenticato una cosa. L'Imperial College, che sostiene la tesi di far fuori i contagi, si è, come dire, barcamenato tra l'ipotesi di aprire e chiudere l'economia. Un po' quello che sta succedendo da noi con Salvini, quali sono le misure più opportune da prendere, se cosa bisogna aprire, cosa bisogna chiudere, eccetera, eccetera. La soluzione, e questo lo vediamo molto chiaramente, anche guardando soltanto la televisione, l'unico, diciamo, elemento che viene proposto per far fronte a queste oscillazioni aprire e chiudere è quello del vaccino, sostanzialmente. Si vaccina, più si vaccina e quindi si può aprire. Ovviamente, questo è stato anche sostenuto da Burgio, il vaccino in qualche modo è un cerotto, nel senso un parce che risolve fino a un certo, anche perché questi vaccini non garantiscono copertura per molto tempo, quindi risolve momentaneamente la situazione, ma se siamo in condizioni che le pandemie si riproducono, non è una soluzione. Quindi bisogna ritornare alla questione delle cause, perché se non torniamo alla questione delle cause, non ne veniamo assolutamente fuori. Mi sembra che sia questo il tema fondamentale. Ah, poi voglio dire che Juan fa parte di questo gruppo partito dei lavoratori socialisti, che è unito nel FIT Unidad, e loro propongono una strategia. Qui potrei già fare una domanda, ma poi mi risponderà. Una strategia che mi sembra abbastanza vicina a quella della Cina, del Vietnam, cioè quella di impiegare risorse massicce per fare tamponi di massa, per isolare i focolai di contagio, e di intervenire in maniera molto pragmatica sul territorio per impedire la diffusione del virus e garantendo a tutti i lavoratori le risorse necessarie per sopravvivere, e le medicine necessarie per sopravvivere nei tempi duri della pandemia. Tutte cose che ovviamente non sono state fatte, se non in minima parte. All'inizio, abbiamo proposto questa serie di medidas denunciando qualche fortalecimento del aparato represivo estatal. Si, e al contrario, abbiamo planteato che cada una di queste medidas tiene che essere tomate per la autoorganizzazione dei lavoratori desde i sui lugares di lavoro, lavoratori, mujeres, pueblos originarii, lavoratori della industria farmaceutica e di tutta la industria, defendendo, in primer lugar, su salute e planteando la necessità di tomarme medidas politiche, medidas sanitarias e al mismo tempo politiche. Por ejemplo, in Argentina se siguiò pagando una deuda externa ilegal e legittima, in lo che va del anno già se pagaron di interessi di deuda più di lo che è il presupposto total di questo anno per la pandemia per esempio. Però, però, vorrei señalar che le strategie, diciamo, le strategie che proponiamo non è la mia di altri paesi come China o Vietnam. Si se pare, nel senso di che è possibile suprimire i contagios, però, planteiamo molto fortemente la necessità di affrontare qualche fortalecimiento di apparati repressivi con la scusa della pandemia. Ah, molto bene. Volevo dire, allora, avevo dimenticato che ovviamente loro propongono quello che proponiamo anche noi, la unificazione del sistema pubblico e del sistema privato in un unico sistema pubblico, nazionale, universale. Va bene. E mettono anche in evidenza, questo l'abbiamo fatto anche noi in varie occasioni, come la pandemia sia utilizzata a fini repressivi. Per esempio, noi vediamo tutti i giorni alla televisione qualcuno che colpevolizza i cittadini per la diffusione del virus. Cioè, saremo noi poi responsabili perché il virus si diffonde. non sono responsabili coloro che hanno nelle mani l'infrastruttura del paese che, per esempio, non aumentano in maniera adeguata i trasporti, per esempio. Per esempio. Ehm, che altro volevo aggiungere? Un'altra cosa. Ecco, che, questo è molto importante, che le misure di controllo, che i protocolli di sicurezza siano applicati, eh, nelle scuole, nelle università, nelle fabbriche, devono, eh, stare nelle mani dei lavoratori. Cioè, si devono creare delle entità, eh, in cui ci sono degli rappresentanti dei lavoratori che monitorano, eh, l'effettiva applicazione delle misure di controllo. Perché non ci possiamo affidare, d'altra parte, come, eh, dimostrano tutti gli eventi che si sono successi, non ci possiamo affidare a coloro che gestiscono dall'alto queste misure di controllo. Perché, in genere, non vengono applicate. O sono applicate solo in minima parte. per ora per al final. Sobre la aposta farmacologica, lo che stiamo presenciando è un nacionalismo di vacuna che muestra il choque di, una aposta solamente a la farmacologia, però, per l'altro, la irracionalità di un sistema di patente, che facendo che vacuna produzione per l'investigazione pubblica e finanziata con fondos pubblici, che facendo che facendo che il 80% delle vacuna stanno in mani di 14 paesi, che più di 130 paesi non hanno potuto applicare una dosi a loro poblazioni e proprio lo vanno a poter fare quando la pandemia a nivel científico e a nivel racional di come enfrentarla necessita della immunizzazione di tutto il mondo per evitare la propagazione e la generazione di nuova variante, questo va asociato al planteo dell'annulazione delle patente e la produzione di vacuna per tutto il mondo per poter applicare queste vacuna lo più urgentemente possibile. Quindi anche qui c'è un punto che ci trova del tutto concordi, cioè quello di annullare i brevetti, anche perché questi vaccini sono stati creati in larga parte con fondi pubblici di cui si sono beneficiati come al solito i privati, quindi questi vaccini che sono necessari per la sopravvivenza della stessa umanità devono essere diffusi gratuitamente e universalmente. invece sempre per l'irrazionalità del sistema capitalistico noi ci troviamo in una situazione in cui i 14 paesi hanno più dell'80% della disponibilità dei vaccini, addirittura hanno più dosi dei loro stessi abitanti, mentre ci sono paesi per esempio i paesi dell'Africa in cui tra l'altro non si fa nemmeno nessun tampone di massa, non si sa nemmeno quanti sono i morti, i malati, perché non esiste un sistema sanitario efficace, pubblico, eccetera, sono completamente sprovvisti dei vaccini. Ora, aggiungo che questo fatto che vi siano paesi in cui non si può praticare un vaccino mette a rischio anche noi, perché se noi siamo vaccinati ma ci sono altri che non sono vaccinati ovviamente il virus continua a circolare e continuando a circolare continua a mutarsi e quindi i vaccini che abbiamo sviluppato diventano inefficaci o sbagli e e in questo sentito apparece uno di che è l'evoluzione è l'evoluzione che diciamo al permettere la circulazione del virus il virus va cambiando va mutando e aparecen varianti più contagiosi letali e con escape di come l'evoluzione che non è l'evoluzione come l'evoluzione la pandemia come l'evoluzione l'evoluzione e e abbiamo la variante sudafricana che ha fatto che la vacuna AstraZeneca ha già stato descartato la variante di Manaus che genera reinfezioni e che circola ampliamente per esempio in Argentina e così differenti varianti che sono una variante india e una proliferazione di mutazioni però che hanno un origine social economico e politico in questa strategia sanitaria che olvida che se tratta di un virus che evolucione e che la naturalezza se va adaptando a come la come la enfrentiamo in questo sentido vacunare in diversi tempi a la población per esempio in Argentina se sta planteando vacunare con una sola dosi per prima di prima per la proliferazione di nuove varianti tener una población che sta vacunata a media mentre il virus sigue circulando perché la economia sia abierta allora aggiungo una cosa che non avevo detto prima a proposito delle risorse da destinare alla situazione Juan ha ricordato che l'Argentina ha recentemente pagato degli interessi del debito che sono superiori addirittura al budget di bilancio dello stato quindi praticamente nonostante la situazione gravissima che sta registrando l'Argentina il governo dei Fernandez continua a pagare il debito che poi in larga parte è un debito illegittimo messo su da il terribile Macri va bene detto questo immagino andiamo verso la conclusione così diamo spazio al dibattito e ovviamente un'altra dimenticanza di questo tipo di scienza ufficiale è quella dell'evoluzione come abbiamo detto questi virus se lasciati proliferare e circolare nel processo di adattamento perché così si chiama ovviamente si trasformano e diventano anche più letali più pericolosi e quindi come dicevo i vaccini diventano inefficaci in particolare per esempio AstraZeneca non è in grado di sconfiggere la variante sudafricana quindi se le se non si investe in maniera significativa e non si procede in maniera tempestiva c'è il rischio che questa situazione si propaghi continui persista ancora a lungo cosa che ovviamente noi tutti non ci auguriamo quindi termine con il covid e con la pandemia implica una mirata non reduccionista ni biologista sobre la pandemia che contempla i limiti delle intervenzioni farmacologiche e apunta a le causate del origine la propagazione e evoluzione del virus questa epidemia una mirata dialettica e marxista può apportare a una epidemiologia critica che non ha naturalizzato le condizioni sociali economiche capitalista e che è la via per pensare programmi di accion e strategia sanitaria adecuata solo per nombrare alcuni elementi di questa strategia una es ir por la supresione total del virus si apuntar a suprimir directamente los contagios y no según lo que pueda o no la economia sino las necesidades sanitarias y científicas de la salud pública ampliar la salud y el sistema de salud y destinar recursos a los sistemas de salud según las necesidades de la pandemia si con testeos planes de testeos masivos ampliar la capacidad hospitalaria revertir la privatización y fragmentación de los sistemas de los sistemas de salud suspender digamos apuntar a la forma de producción y de precarización capitalista que hace que aunque se decreta una cuarentena en un país los trabajadores precarizados tienen están obligados a salir y a enfrentarse al virus para poder comer si por ejemplo y finalmente atacar la raíz estructural de la generación de patógenos con la introducción de una agenda agroecológica y terminar con el agronegocio si y como les decía antes estas medidas las hemos planteado en argentinas del pts el frente de izquierda y las distintas los distintos partidos y grupos que componemos la fracción trotskista como una respuesta internacional e internacionalista a la crisis sanitaria y económica de la pandemia y fundamentalmente para evitar que los costos caigan sobre las mayorías trabajadoras y como la única solución posible para evitar futuras pandemias pandemias muy bien abuelo de la precaria que impediría por ejemplo el respeto de la de la cuarentena un impiego un impiego di straordinarie risorse per sostenere la popolazione per fare i tamponi di massa per fare le vaccinazioni insomma tutta una serie di misure su cui già ci siamo sfermati però ripeto la questione veramente importante è l'intervento strutturale se non c'è l'intervento strutturale noi non ne veniamo fuori siccome io sono stata accusata di essere catastrofista e forse lo so non lo nego per rispondere a questa accusa mi permetto di citare un art il titolo di un articolo che ho recentemente letto ed è questo il titolo o noi noi facciamo fuori il capitalismo o il capitalismo fa fuori noi questa sembra essere purtroppo la disgiuntiva attuale allora penso che qui ci possiamo fermare e possiamo invitare tutti coloro che lo vogliono a fare delle domande delle critiche dei commenti eccetera eccetera grazie qua a te a te allora Paolo Crocchiolo ha alzato la mano Paolo 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 puoi intervenire che puoi fare una domanda Paolo 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 sì ecco adesso mi sentite sì sì perché non avevo arrivato no no niente volevo io volevo dire due cose ma diciamo parlo in italiano perché così mi e poi intentare di parlare molto spazio di maniera che tu puoi intendermi lo che dico ecco siccome ecco quindi parlerò lentamente e dunque io ho lavorato come diciamo responsabile del settore epidemiologia clinica dell'AIDS SIDA no proprio all'OMS a Ginevra per alcuni anni e fra l'altro io ho lavorato prima avevo lavorato all'ospedale Sacco a Milano insieme con Massimo Galli quindi siamo colleghi con quello che adesso è mio grande amico e giustamente è anche molto diventato molto noto recentemente e ho notato che ci sono delle notevoli analogie intanto dico che sono totalmente d'accordo con l'approccio di di Juan e ho notato e sto totalmente d'accordo con tu visione lo che ha ecco ho notato che fra l'epidemia e diciamo le conseguenze sociali e politiche anche e l'epidemia attuale ci sono delle differenze ma ci sono sostanzialmente anche delle grosse delle grosse delle grosse somiglianze tanto per cominciare l'origine e comunque anche lì è dalle scimmie silvestri quindi da animali che erano a contatto e che sono arrivati a contatto per la famosa interruzione delle barriere con con gli esseri umani anche nel caso dell'HIV come in questo caso e negli altri che sono stati citati l'ebola lo zika eccetera eccetera e poi dal punto di vista sia della diffusione sia dell'intervento delle autorità sanitarie che già purtroppo negli anni 80 con Reagan e Thatcher avevano cominciato a mettere in discussione la salute come come ancora negli anni insomma dei servizi sanitari nazionali Inghilterra in Italia la salute come bene pubblico hanno cominciato diciamo a promuovere questa idea sciagurata della salute come merce che quindi era a disposizione di chi nella piramide sociale aveva più possibilità di prestazioni migliori e quindi sia nell'un senso che nell'altro c'è stata questa diffusione per esempio in Africa sempre l'AIDS ha fatto strage perché per molti motivi la la miseria prima di tutto e poi tutte le varie forme di discriminazione che venivano che erano introdotte nel senso la la carenza assoluta dei servizi igienici la carenza dei servizi sanitari ma anche per esempio un fatto che non è stato molto notato in occidente nei paesi ricchi è che in Europa era proibita la diffusione dell'alcol e soprattutto gli alcol di bassa qualità quelli tossici e venivano mandati per questo per risparmiare per non buttarli via venivano mandati a poco prezzo a basso prezzo dove c'era un mercato che poteva permettersi a basso prezzo e che era il mercato africano e tutti i sabati sera in tutta l'Africa c'erano i lavoratori sottopagati e sottosfruttati che avevano e diciamo si servivano dell'alcol come e anche in Sud America però questo è successo si servivano dell'alcol massicciamente per poter disinibirsi avere i rapporti naturalmente mancanti con prostitute e poi purtroppo questo alcol serviva anche come anestetico per le lesioni genitali che erano altrettante porte che si aprivano verso il virus e la trasmissione del virus quindi una catastrofe derivata proprio dalla situazione di estremo sfruttamento di estrema povertà di queste popolazioni e quindi già una prima forma di discriminazione poi lì però diciamo il fatto di discriminare anche qui in occidente intanto il genere femminile perché si è visto benissimo che per esempio nelle coppie discordanti qui in Italia è stata fatta una ricerca per cui quando dei due si era positiva la donna e l'uomo pretendeva di usare il preservativo quando dei due era positivo l'uomo si era positivo e la donna nella maggior parte dei casi non si richiedeva di usare il preservativo quindi già questo un fattore ecco quindi di discriminazione a livello femminile e il virus non colpisce alla cieca anche qui colpisce quelli che sono già discriminati in partenza tossicodipendenti prostitute migranti prigionieri eccetera 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 e la stessa diciamo che poi però all'inizio la discriminazione si rivoltava se volvia contro dei discriminatori perché naturalmente poi la circolazione del virus sotto sottotraccia aveva l'effetto che certe volte anche persone ricche e potenti venivano contagiate e poi però è arrivato il fattore che ha salvato diciamo così in questo caso il fattore che ha per cui hanno esultato si può dire il mondo della borghesia benestante perché sono arrivate dopo 14 anni di diffusione dell'AIDS sono arrivati i farmaci efficaci i efficaci a disposizione di chi naturalmente a disposizione di chi se li poteva permettere e lì c'è stata una grandissima lotta da parte per esempio dei paesi come il Brasile ma soprattutto l'India e anche il Messico eccetera per avere anche lì come qui adesso per i vaccini la storia dei brevetti di mettere a disposizione anche delle classi sociali più povere i brevetti e si è battuto molto per questo anche Nelson Mandela per esempio in Sudafrica perché finalmente dopo vari anni si è riusciti a fare non in quel caso l'immunizzazione perché il virus dell'HIV non si riesce a fare l'immunizzazione ma almeno a trattarlo in maniera efficace e non solo i ricchi o i paesi più ricchi come quelli europei e occidentali lì si è riusciti a fare questo ma comunque anche in questo caso abbiamo visto poi come il fatto di discriminare alla fine e questo forse una nota che bisognerebbe sfruttare insomma noi di sinistra dovremmo fare insistere molto su questo fatto che per esempio nella medicina è importante notare che chi discrimina alla fine a lungo andare o a medio termine può anche subire un rebound un un contraccolpo perché come l'infezione è colpito dall'infezione quindi questo fatto di intreccio fra le varie componenti diciamo la componente politica sociale e la componente biologica si è notata molto anche nel caso dell'AIDS nel caso dell'Ebola sappiamo benissimo che per esempio i vaccini non sono stati sviluppati scusami Paolo ti prego di arrivare alla conclusione ho finito perché vorrei dire che ognuno ha a disposizione cinque minuti se no non possiamo dare spazio a tutti sono andato già oltre si si lo so no dicevo che anche nel caso dell'Ebola poi è evidente no che i vaccini che si era cominciati qualche ditta aveva cominciato a prospettare di svilupparli poi alla fine quando si sono diciamo che solo pochissimi occidentali sono stati contagiati e quei pochissimi hanno potuto usufruire in quel caso degli anticorpi monoclonali si erano iperimmuni eccetera che è carissimo non è certo a disposizione di tutti invece per i vaccini si è rinunciato a produrli perché non dico non aggiungo altro però insomma sono molto d'accordo con la volevo chiedere un'ultima unissima cosa è il Zahir 2006 esiste la caracola il Zahir 2006 per mettere in contatto se possibile ok ok grazie allora vai juan vuoi 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 ho vuoi ma non vuoi 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 Ejemplos, me parece importante resaltar Digamos que contamos con puntos de vista No solamente esto Como Rob Wallace y otros Sino por ejemplo Mike Davis Ha hecho trabajos muy muy importantes Mostrando cómo es la circulación La circulación de enfermedades y patógenos Producto de la avanzada neoliberal Por ejemplo Si, digamos, recuerdo Por los ejemplos que dio Paolo Que va en el mismo sentido Me parece muy bien No tengo más que acotar Muy bien Allora, ¿quién es que quiere hacer una pregunta? Un comentario, pero Dicemos, no superar los 5 minutos, por favor Te ne faccio io Una pregunta, una domanda Io ovviamente non sono una biologa Non soy una biologa, soy un antropologa E me gustaría saber Tutte le pandemie Si originano per uno salto di specie? No Spillover o no En mi caso tampoco soy biologo Ni epidemiólogo Sino que más bien Mi trabajo es más bien Poder rastrear y poner a disposición Trabajos previos que nos sirvan para pensar y para comprender Y para pensar una estrategia política para transformar la situación Desde mi conocimiento No es la única manera de emergencia de patógenos Hay otras Lo que señala, digamos, a mí me interesa mucho el trabajo de Levins Levins es uno de los principales epidemiólogos a nivel mundial Fallecido Pero investigó constantemente las epidemiologías y la relación entre ecología y salud En el caso de Rob Wallace y todo su equipo También, digamos, está lleno, digamos, cuando uno ve el grupo de investigación, está lleno de investigaciones En este sentido Lo que dicen es que, bueno, lo que decía recién, digamos Si la mayor producción de enfermedades pandémicas El 60% tienen un origen zoonótico Digamos, y tienen un origen zoonótico en las últimas décadas A partir de lo que se llama la revolución La revolución, ¿cómo se llama? Livestock revolution La revolución en la agricultura y en la ganadería Digamos Eso está, se discute poco en la conversación común sobre la pandemia y la salud Porque están separados los aspectos, digamos, biológicos de los aspectos sociales y estructurales Entonces, lo que yo contestaría desde lo que yo he podido investigar Es, no toda pandemia tiene ese origen Sino que más en general Lo que por eso me pareció importante lo que planteaba Levins y Levontin Si tienen un origen en cambios estructurales Como por ejemplo No es casual, por ejemplo Que en la transición entre el feudalismo y el capitalismo Encontramos el surgimiento de pandemias Por ejemplo O en la misma revolución industrial También, digamos Hacen a cambios profundos en la forma de producción De relación con el medio ambiente, etc. Y en la producción de animales Por lo menos en las últimas décadas Sí, el 60% sí tiene un origen zoonótico Eso es lo que yo he podido investigar Pero aclaro, yo no soy biólogo Ni soy epidemiólogo Sino que más bien como marxista Me he enfocado también en las diferentes Las diferentes explicaciones Las mejores explicaciones Para poder comprender de qué se trata la pandemia Y así, digamos He llegado a estos autores Y lo que hacemos también Es poner a disposición Del conjunto de trabajadores Estudiantes, investigadores Un punto de vista Que rompe con la visión Reduccionista, biologicista Que, digamos Impide comprender los fenómenos Y transformarlo Pero Mi contestación sería esa No Creo personalmente Que no todas las No todas las pandemias Tienen un origen Zoonótico Pero sí la mayoría Y en los últimos años Es un Lo más importante Es que es un patrón Industrial de producción De enfermedades Estamos ante eso O sea Y una vez Cuando Eventualmente Se logre Terminar Con el COVID-19 Si Por alguna manera Que hoy Más bien parece Parece algo lejano Porque Seguimos viendo Variaciones y mutaciones Parece lejano Probablemente Vamos a ver Surgir otro tipo De pandemias Que ya Durante la pandemia Se eliminó La producción industrial De visones En Dinamarca No sé si recuerdan eso Digamos ¿Por qué? Porque los visones También Son reservorios De coronavirus ¿Sí? Pero por eso les decía En Argentina Al mismo tiempo Se están instalando Megadranjas porcinas Iguales Exactamente Iguales A las que dieron lugar A la influenza N1H1 En 2009 Y las está instalando La misma persona física Que en su momento Se enriqueció Con la vacuna Para esa influenza Digo Estamos ante Una Un sistema Producción de enfermedad A una escala Digamos Histórica Y crítica ¿Sí? Digamos Eso Me parece Digamos Por el otro lado Sí quería señalar Frente a cualquier Catastrofismo Que al mismo tiempo Estamos viendo Una emergencia De luchas De luchas sociales Desde abajo De trabajadores De mujeres Inmigrantes Las luchas De afroamericanos En Estados Unidos Que son enormes Hoy En Latinoamérica Estamos Estamos muy pendientes De lo que pasa En Colombia Donde Uno de los países Ejemplos Digamos De la injerencia De Estados Unidos En la región Como es Colombia El pueblo colombiano Está saliendo A las calles Contra un ajuste Que les descarga La pandemia Socialmente Sobre sus espaldas Lo vimos en Chile En Argentina Mismo también Digamos Y No es que está Está todo Digamos Perdido Más bien Al contrario La clase obrera Es mucho más numerosa Mucho más fuerte Que En años Anteriores Pero sí Es necesario Poner En pie Digamos Una agenda Política Estratégica Que Enfrente Las causas Estructurales De la situación Que estamos Que estamos Atravesando Este es Un aspecto Muy clave Es el aspecto Teórico Y De la Y para eso Rescatar Las Armas De la crítica Marxista ¿No? Y otro aspecto Es el de la organización Política Y Programática ¿Sí? Digo Para ver La magnitud De lo que significa Estas conclusiones Que saca gente Como Levontis O Rob Wallace Es que Una vez que terminamos Con esta pandemia Si El sistema De producción De commodities Está enfocado En producir animales Y Y plantas De esta manera Necesariamente Vamos a nuevas pandemias En breve ¿Sí? Eso me parece Lo que es lo que puedo Saber Se debo tradurre Que lo que es Todo esto L'avete capito Si ha cortado Puoi parlare Gabriella Si va bene No si è capito Bene Alessandra Posso dire Una cosa Velocissima Certo Dilla 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 Giacomo Mi si accenderà Ok Forse mi si accenderà Anche la camera Se no Amen Parlo in italiano Insomma Andando piano Riprendo Da dove Ha appena Terminato Quanto Noi ovviamente Non sappiamo In maniera Precisa In quali Saranno Gli scenari Epidemici Dei prossimi Due Tre anni Perché ci sono Molti Molti Fattori Che Giocano In campo Però In uno scenario Che è Possibile Come quello Appunto Che nascano Covid 1 2 Tante Di cui Tenere conto E Chiedo Anche a Juan Se vuole Dire Qualcosa Il fatto Che In questo Nuovo Scenario Internazionale Che si è Creato Negli ultimi Anni Da una Parte Anche Grazie Alla Crisi Del Covid C'è Una Tendenza Alla Lotta Di Classe Alla Ribellione Che Si è Che è Aumentata E Quindi Possiamo Dire Che Ci sono In molti Paesi Alcuni Passi In avanti Verso Una Situazione Quindi Si rompono Diverse Situazioni Di passività E Però Un'altra Coordinata Che a quel punto Entrerebbe Come coordinata Internazionale È È quella Di una Situazione Di Governi Che Devono Fronteggiare Una Pandemia Continua O Comunque Pandemie Vicine Fra Loro Nel Tempo E Quindi Avrebbero Ancora Di Più La Scusa Per Misure Di Repressione Che Cominante E soprattutto Le grandi potenze Imperialiste Soprattutto Gli Stati Uniti Fanno Da molti Anni Cioè Come Usare Misure Repressive Di Guerra Interna Di lotta Di classe Nel Proprio Territorio Contro Una Possibile Stagione Di Ribellioni E Allora La Pandemia Diventerà Una Forma Di Questa Lotta Di Classe Che Comunque Nel XXI Secolo Ci Sarà In Ogni Caso Credo In Questo Senso Non Catastro Scomparso Non so Che è Successo Disapparissimo Un problema Di Conexione Sì Un problema Di Conexione Comunque Quello Che è Stato Diciamo Messo In Evidenza Da Quan È Che Questa Situazione Pandemica Ha Portato A Un Risveglio Delle Masse Popolari Soprattutto In America Latina Citiamo Il Caso Del Cile Che È Cominciato Nel 2019 Adesso In Questi Giorni La La Colombia Ma C'è Stata Anche La Bolivia E Anche Altri Paesi Forse Mi Pare L'Italia Sia Un Po Arretrata Da Questo Punto Di Vista Perché In Italia Sì Ci sono Delle Lotte Locali Però E Ci sono State Anche Lotte Di Tutt'altro Segno Cioè I Cosiddetti Sovranisti Non Se Tu Sabe Chi Sono Sovranisti Cioè Gente Di Destra Che Chiede La Riapertura Della Attività Economica Senza Preoccuparsi Del Virus Arrivando Fino A Delle Posizioni Negazioniste Quindi In Italia Per esempio In Francia C'è stata la celebrazione Del primo maggio Con la gente Nelle strade In Italia Non è successo niente Il capo dei sindacati Ha chiesto Un colloquio Con il capo del governo Sì 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 Tambien Sai 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 Nota Renato Renato Sì Sì Volevo Buonasera Ringrazio Yuan E Alessandra Molto Interessante Volevo Solo Aggiungere Che In realtà In Italia Ci sono state Pure Delle Lotte Significative L'anno scorso In particolare Della classe operaia Che Diciamo In maniera Autonoma Si è Mobilitata Per Far sì Che ci fosse La chiusura Di Come si dice Il Black Come si diceva Il Lockdown Ha fatto sì Che ci fosse Lockdown In una situazione Che era Catastrofica C'erano Una quantità Enorme Di morti Tra i Tra i Lavoratori E Il governo Pur di Non Bloccare i Profitti Imponeva Cioè Non chiudeva Non Non praticava Il lockdown E Solo Grazie a Questa Grande Mobilitazione C'è stato Il lockdown Che ha portato Poi a A limitare Moltissimo I danni Per dire Che In realtà Anche se C'è ragione Alessandra L'Italia è molto Arretrata Soprattutto Perché Pure questa Mobilitazione È stata molto Importante È venuta dal Basso È stata spontanea Ma non ha trovato Poi Dei sindacati Che fossero In grado Diciamo Di Portarla più Avanti O dei partiti Che fossero In grado Di farlo È finito Grazie No sé Si sta Giacomo Si sta I Queria Terminar Giacomo C'è qualcun altro Paolo Si scusate Ci mette Una vita Ad aprire Il microfono Per quello No no Vabbè Ma si è sentito Bene Prima il mio intervento Perché Non aggiungerei Altro Alla fine Qualcosa Si deve essere Perso Si Allora Solo in sintesi Le ultime battute Dicevo Che Di fronte A una Tendenza All'aumento Della lotta Di classe Con fenomeni Anche di Ribellione E più vicini A situazioni Rivoluzionarie Mi sembra Che una forma Nella quale Si Evolverà La risposta Dei governi Della classe Dominante Di Repressione Militarizzazione Sarà Una forma Possibile Quella Delle pandemie O comunque Epidemie Ravvicinate Che renderanno Più complicato L'insieme Della Risposta Della Repressione Statale Rispetto Alla lotta Di classe Che però Era un fenomeno Già previsto Per il ventunesimo secolo Cioè Di una Di un class Warfare Come dicono Gli strateghi Statunitensi Che però È reso complesso Da una Da questi scenari Di pandemia Che Prima Non Affettavano I paesi ricchi L'occidente Questo Il vero fenomeno Di crisi politica Di queste pandemie Non è un fenomeno Dei paesi poveri Non è una malattia Che colpisce Solo l'Africa O qualche zona Dell'Asia Tutto qui Si Para Para Agregar Yo Coincido Digamos Lo que Estamos viendo Digamos Es una Digamos La La crisis De la pandemia La crisis sanitaria Se monta Sobre una crisis Previa Económica Que viene Desde el 2008 Donde vimos Que se resolvió Rescatando A los A los grandes bancos Grandes capitalistas Y con niveles De precarización De la clase obrera Brutales Si Digamos Y lo que estamos viendo En este periodo De pandemia Fue una agudización Donde El nivel Por ejemplo De la cantidad De millonarios A nivel mundial Y la cantidad De riqueza Fue Casi Directamente Proporcional Al nivel De avance Sobre Condiciones De trabajo Y de Precarización Pero lo que Estamos viendo Ahora Políticamente Es una polarización Y que Las alternativas Las alternativas Reformistas Que Digamos Canalizaron Mucha energía Social A partir del 2009 Están mostrando Su impotencia Digamos A mí me llamó Mucho la atención Ver ayer Ayer ¿Cómo se llama? Bueno Las noticias Por un lado Lo que les decía Antes Venimos siguiendo Lo que está pasando Con la lucha de clases En Latinoamérica Donde países Que parecían Que eran Ejemplos De neoliberalismo Como Chile Como Colombia Están mostrando Una emergencia De lucha de clases Enorme Pero Por otro lado Lo que vimos ayer Con Podemos En España También Después de haber Canalizado Las energías Para recomponer Un régimen Un régimen Político Y un partido Hacer Digamos Secundar Al PSOE No tengo el nombre Ahora Iglesias Iglesias Lo de iglesias Está mostrando También Cómo A nivel A nivel Político O como ya vimos Antes Con otras agrupaciones Me hace recordar Mucho también A lo que fue La crisis Griega Digamos Cómo La situación Así como Está mostrando Que a nivel Elemental De garantizar No tener pandemias A nivel mundial Necesitamos cuestionar Al capitalismo A nivel político Y a nivel económico Empieza a quedar También Claro Para miles De millones De personas Digamos Que realmente Estamos presenciando Una guerra De capital Contra el trabajo Y Y eso Hace Genera Una polarización También Digamos Donde estamos Viendo Emergencia De sectores Así como Hay Emergencia De masas Que durante Mucho tiempo Parecían pasivas Y ahora Emergen A la lucha Vemos grupos De derecha También Que también Intentan Dar respuesta Por derecha Lo vemos A nivel De la conciencia De las masas De la acción Política Y a nivel De las ideologías También Por eso A mí me interesaba Resaltar Lo que tiene Para aportar El marxismo En ciencia En momentos Donde la ciencia Por la mercantilización Está tan cuestionada ¿Sí? Porque estamos Viendo también Que hay un cuestionamiento Muy fuerte Por ejemplo A las propuestas De la ciencia A nivel mundial Yo creo que Para los marxistas Es una Reafirma Que estamos En una época De crisis Guerras y revoluciones Pero al mismo tiempo Reafirma Que El capitalismo Con sus diferencias Y sus cambios Digamos Sigue teniendo La misma base estructural Y que la dialéctica Para poder explicar Los fenómenos Y para poder explicar Digamos Y para poder Construir una ciencia Para el pueblo Y una ciencia Realmente útil Sigue teniendo validez Digamos Es una oportunidad Al mismo tiempo Una necesidad Y una oportunidad Non lo so Se avete capito Si siano a tradurre? No Si siano Gabriela Traduciamo Giacomo Traduci tu Vai Alessandra Andato un po' A scatti Mi sono perso Un po' Una parte Riesce tu Perché Non riuscirei A dirlo tutto Il discorso Va bene Quello che mi ricordo Quello che mi ricordo Quello che mi ricordo Ovviamente E va bene Va bene Allora diciamo Che il concetto Che lui mette In evidenza E che è un concetto Che si ritrova Se voi avete voglia Di andare su questo sito Che è appunto La schierda diario Multimedia Che è un sito Molto ricco Devo dire Molto ricco Perché ci sono Corsi Gratuiti Documentari Articoli E poi Una cosa Molto importante È che sono Tutti giovani Giovani Molto giovani Ragazzi Fanno Una trasmissione Radio Tutte le mattine Che dura Varie ore E Quindi sono Numerosi Sono Altamente Combattivi Il primo di maggio Per esempio Hanno organizzato Un giorno internazionale A cui hanno partecipato Militanti Degli Stati Uniti Della Francia Della Germania Dello Stato Spagnolo Eccetera Eccetera E quindi Scrivono anche In molte lingue Diverse lingue Quindi È un sito Io lo uso Molto Perché Trovo Tante informazioni E mi pare Un ottimo lavoro Questo non significa Che si debba essere d'accordo Su tutto quello Che loro sostengono Ovviamente Ovviamente Perché Noi siamo Ovviamente Per il confronto E per la discussione Perché Noi siamo Per il pensiero Critico Ovviamente E credo che Juan Sia d'accordo Con questo Comunque Diciamo Che La loro analisi Che La pandemia Ora In questa situazione Esplosiva In cui Questo lo aggiungo io Le masse Si rendono conto Che Anche se Non in maniera Come dire Del tutto Cosciente Che O facciamo fuori Il capitalismo O il capitalismo Fa fuori noi Proprio per questa ragione Ha preso avvio Una Una Fase Di Crisi Rivoluzioni Ribellioni Va bene? Ora Sta a noi Siamo Militanti Di un certo Settore Far sì Che questa Direzione Segua In maniera Lineare Perché Non è Automatico Lo sappiamo Ci possono Essere Delle deviazioni Infatti Anche Juan Ha ricordato Che ci sono Delle strumentalizzazioni Da destra Di questa fase Come vediamo Anche in Italia No? Eh Appunto Salvini Meloni Eccetera Eccetera E quindi È un momento Cruciale Della storia In cui Si possono Verificare Dei cambiamenti Questo Eh Juan Non l'ha menzionato Io lo menziono Oppure Un ulteriore Ristrutturazione Della società Capitalistica Credo di sì No? Perché la società Capitalistica È un'entità Eh Inequilibrio Instabile Costantemente Inequilibrio Instabile E quindi Può trovare Dei mezzi Ulteriori Per Rimettersi In piedi Va bene? Però Nello stesso Tempo C'è questo Malcontento Diffuso A livello Mondiale E poi Ricordava Juan Giustamente Che siamo In una fase In cui La classe Operaria È Numerosissima Quindi Voglio dire Quanti so Due miliardi Di e mezzo 526 milioni Dei Trabajadores Industriali Allora 526 milioni Di lavoratori Industriali E quindi È una fase Di grande Espansione Della 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 Classe Operaria È una fase In cui Le condizioni Di lavoro Sono Peggiorate E quindi Il malcontento È aumentato Poi Non contiamo Tutti Questi Lavoratori Impoveriti Precari Eccetera E quindi Ci sono Le condizioni Ottimali Per ottenere Dei cambi Per esempio In Colombia Citava la Colombia Le masse Popolari Hanno fatto sì Che Duche Ritirasse La legge Tributaria Che Pesava Sulle spalle Dei lavoratori Quindi È stata Una cosa Fondamentale In Cile Si sta Lottando Affinché Venga Affermata Venga Formulata Una nuova Costituzione Quindi Ci sono Dei Come dire Dei segnali Di luce No Però Ovviamente Non possiamo Starci Noi Con le braccia Crusadas No Dobbiamo Agire Come Questo Non smetta A me Dirlo Non saprei Allora Chi vuole intervenire Paolo Grazie Volevo solo aggiungere Una piccola cosa Epidemiologia Come epidemiologo Volevo rispondere Anche Alessandra Grazie Per esempio Il morbillo Originariamente Era un'antropozonosi Anche quella La maggior parte Effettivamente Le malattie infettive Sono di origine Anche animale Diciamo Sono antropozonosi Ed è il motivo Fra l'altro Per cui Nel suo libro Fondamentale Insomma Armi, acciaio E malattie Jared Diamond Ha Fatto notare Che tutte Le differenze Che poi hanno portato Hanno dato luogo Alla fine Soprattutto dopo La scoperta dell'America Al colonialismo E All'imperialismo Per cui I paesi Nordici Dalle fasce temperate Del nord Erano Diciamo Avevano Erano stati avvantaggiati Proprio dal fatto Dell'agricoltura E L'allevamento Perché Il fatto Di essere Sempre Per centinaia Di generazioni A differenza Degli abitanti Dell'Australia Dell'Africa Dell'America Dell'America Di essere In contatto Permanente Con gli animali Domestici Ha prodotto Una specie Di Immunità Perché Alla fine Sono sopravvissuti Sempre Quelli che Avevano Una maggior Possibilità Di reagire Con gli anticorpi E da qui Naturalmente Quando sono arrivati Invece Soprattutto Nell'America Latina Nei Caraibi È stata Una carneficina Perché Le malattie Da virus Contro cui Noi avevamo Sviluppato Un certo numero Di immunità Anticorpale Come il morbido Punto Hanno C'è fatto Strage In questi paesi Anche successivamente Anche in Africa Anche se poi Bisogna aggiungere Fra l'altro Che anche lì Fra la differenza Fra l'Africa E l'Europa Una sola cifra Nel 1980 La mortalità infantile Per morbillo Nel Senegal Era uguale a quella Che c'era Cento anni prima A Parigi Vuol dire Che col miglioramento Delle condizioni Igieniche Naturalmente Prima ancora Del vaccino Si era Notevolmente Ma molto Notevolmente Migliorata La situazione E purtroppo Infatti La La povertà La miseria Estrema Che viene prodotta Dallo schiavista Ginesi Del terzo mondo Produce Diciamo Ancora oggi Una gravità Delle malattie Molto maggiore Malattie che invece Da noi Comunque Hanno una gravità Molto minore Io Tra l'altro Ho scritto Alcune di queste cose Su un articolo Che adesso Pubblicherò Su Medicina Democratica A cui sono già iscritto Dai tempi di Maccacaro Insomma Ormai Ho la mia età E niente E quindi Volevo solo Fare questa Aggiungere Questa Questa piccola nota Insomma Bene Grazie Allora Se non c'è Nessuno Diamo la parola A Juan Per concludere E poi ci lasciamo Ah Gabriella Comunque Domandina Una domandina Una considerazione Perché In effetti Juan Tutti voi avete Parlato Della Risoluzione Al problema Senza poi Vederne L'origine Cioè Non risolve Il problema Alla fonte Ma Puoi tamponare Dopo In maniera Pagmatica Con i vaccini Però All'interno Della cura Si pone Anche il problema Della terapia Domiciliare Perché Non è un caso Che La medicina Del territorio Non venga Potenziata Perché Altrimenti Non potrebbe Forse Andare avanti In gusto Dei vaccini Perché C'è la maniera Di curare Il covid Anche Da casa No Usando subito Dei farmaci Cioè Ci sono degli esempi In questo senso Qua Però È strano Che non venga Per me In Italia Perché Non viene pubblicizzata Questo tipo di terapia Non viene Diciamo Autorizzato Un protocollo Mentre Ad esempio Così Una giusta notizia L'ho visto Per caso Su internet In Guatemala Viene Pubblicizzato È dato gratuitamente Un kit Anti-covid Per la terapia Domiciliare Non so adesso La validità O meno Di questo kit Però Qualcosa In questo senso Vi viene fatto Invece qui È tutto Dato Lasciato in mano A privati Che hanno Queste iniziative Raccolgono gruppi Su Facebook Non so se ci vediamo di tradurre Si Puoi Entendiste La domiciliare Sobre la terapia Domiciliare No Non se oye Disculpa Juan Non se oye No Sobre Las terapias Bueno Primero Sobre las terapias En la izquierda diario Por ejemplo Hemos entrevistado Yo he entrevistado A John Parrington Es un Es un compañero Del Partido Trotskista Inglés Que es Es biologo Trabaja en Oxford Justamente En la Universidad de Oxford Y decía algo interesante Importante Que es que La investigación Del Big Pharma Dejò de lado La investigación Sobre tratamientos Se centraron Solamente En las vacunas De una forma Fragmentada Cada uno Por su lugar Con una carrera Alocada Y dejaron de lado La investigación Sobre tratamientos Eso Es Es un problema Sería necesario Apuntar a tratamientos También Digamos Pero El interés Del Big Pharma Apuntó más A las vacunas Que a los tratamientos Dicho eso Hay un problema Con el tema De los kits Bolsonaro Por ejemplo Reparte Hidroxiclorquina Y kits De Para Supuestamente Tratar el COVID No hay ningún Fundamento científico Hasta ahora Que valide Ese tipo De tratamientos Ni La hidroxiclorquina Ni Ahora en Argentina También están Con la Ivermectina Es otro más Digamos E incluso En Argentina Promovieron El plasma De paciente Convalesciente Y el plasma De equino El suero Equino Hiperinmune Que sale 130 mil pesos El tratamiento Por ejemplo Es inaccesible Para cualquier persona Y la verdad En ese caso Es muy Muy pequeño Digamos La mejora Que pueda ocasionar Lamentablemente ¿No? Pero hay una cuestión Con El tema De los tratamientos De parte De ciertos Gobiernos Negacionistas Están generando Un gran problema En el caso De Bolsonaro Están generando Un gran problema Y después Otros sectores Más Con un discurso Anticientífico Que igualan Ciencia A Big Pharma Y le oponen Por ejemplo Uno Que circula Acá Bastante Que es Un tratamiento De ¿Cómo se llama? No recuerdo El nombre ahora Bueno Es Muy similar A Creo que es Hidroxido No Cloruro de sodio Creo que es También Acá Ha muerto gente Por Ingerir Ese Ese tipo De tratamiento Digamos Hay una cuestión Profunda Que es Recusar De conjunto Cualquier tipo De tratamiento O Respuestas Científicas Igualando El Big Pharma Con La ciencia O Digamos Sacando la conclusión De que Como la ciencia Manejada Por el Big Pharma Conduce A grandes problemas Con las vacunas Los tratamientos Es todo lo mismo Y Al mismo tiempo Se propone Algún tipo De tratamiento Mágico Bueno Al día de hoy No hay evidencia Que respalden Ni la hidroxiclorquina Ni la ivermectina Ni el Plasma de convalesciente Como tratamiento Debería haberlo Sí Habría que pelear Para que los recursos Se destinen A investigar Sobre tratamientos También Porque es Digamos Una necesidad Pero al día de hoy Más bien No Digamos Por eso Lo que decía Antes Hay una necesidad También Demostrar Que la ciencia No está aislada De los intereses Sociales Y que es posible Retomar Un tipo de ciencia Y en primer lugar Que los trabajadores De la ciencia Se consideren A sí mismos Como trabajadores Y que piensen Los fines De sus investigaciones También El gran aporte De Levin Levantin Y de De los Rows Digamos Esa generación De científicos Marxistas En gran parte Es esa Mostrar la relación Entre ciencia Y sociedad Y que No da lo mismo La orientación Social Que se le da A la investigación Está relacionado Con la teoría Que está Detrás Pero Digamos La ciencia Instrumental Tiene consecuencias Nefastas También Eso es lo que Tenemos planteado Problematizar Para No terminar Digamos En que la única Salida Para esa crítica Sea la crítica La salida Por derecha Esa es mi Mi visión Hai capito Gabriela Yo comprendí Menos mal Porque I nomi Dei farmaci Non es que Me li ricordo Si Ha detto L'hidroxicloroquina Ma Yo Mi riferivo Comunque Alla terapia Domiciliare Da fare Nel primo Nel manifestazione Dei primi sintomi Perché normalmente La medicina Territoriale I medici Di base Lasciano Ci vuole Troppo tempo Prima Che inizi La cura Intervengano E allora Ci sono Questi gruppi Che organizzano Terapia Che danno Informazioni Attraverso Dei medici Alle persone Che stanno Che stanno male Su cosa Fare subito Cioè Non prendere Tachipirina Ma ad esempio Prendere Aspirina Per esempio Quindi è solo questo Non mi riferivo Assolutamente A la cura Mi sono Expressa Male Perdono Perdono Entendì mal Una cosa Una cosa A ese respecto Muy importante El testeo Digamos El testeo Testeo Es clave Invertir Recursos En planes De testeos Rastreo De casos Y aislamiento Recursos Para aislamiento Eso Es clave A nivel mundial Nosotros Acá Hemos hecho Una campaña Por testeos Masivos A nivel Nacional Hemos logrado Que se Que esté Digamos En la En la Conversación Pública Pero Por ejemplo En el caso De Argentina Es un Gobierno Que tiene Un criterio Puramente Medicalizante De la pandemia Entonces Al principio De la pandemia Primero Dijeron Que hacer Test No era No era Posible Porque No Eran Muy caros Si Entonces Empezaron A crecer Los casos Hicieron Una Una Cuarentena Sin ningún Tipo De planificación Después Empezaron A producir Tests En Argentina Y se Producen Cinco Por el sistema Científico En Argentina Bastante Fuerte Producen Cinco Tests Que se Exportan Y hoy En Argentina El nivel De testeo Es de una Positividad De más De 30% Cuando debería Ser menos Del 10 Un ejemplo Hace 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 poco A principios De año No había Variantes Nuevas En Argentina Se Empezaron A detectar Por una Institución Estatal A fines De Enero Bueno Ni siquiera Ahí Empezaron A hacer Un plan De testeo Rastreo Y aislamiento Para evitar Que se Propaguen Por lo menos En los Sectores Donde Donde Se Detectaron La Variante Manaus Esa Variante Si Digamos A nivel De tratamiento De la Enfermedad Más Bien Yo Creería Que la Clave Es Fortalecer El sistema Público Y que Hayan Más Hospitales Y más Lugares Para Y recursos Para Las y los Trabajadores Del sistema De salud Público Para poder Atender A los Pacientes Ahora Después La clave Es cortar Las cadenas De contagio Y el testeo En eso Es fundamental Esa es mi Visión Porque tratamientos La verdad Acabo de ver Una de las provincias De Argentina Dan una 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 serie De tratamientos Pero que no tienen Ningún tipo De validez Científica Digamos No 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 va A ayudar Digamos A nadie Tomar Ni Diclofenac Ni Ibuprofeno Ni Todas Lamentablemente Lamentablemente Muchas gracias Menos mal Que somos Latinos Lo sentimos Lo sentimos Allora Noi Se non c'è Nessun altro Che vuole Aggiungere Molto brevemente Qualcosa Ci congediamo Da Juan Lo ringraziamo Moltissimo E Vogliamo Iniziare Una collaborazione Anche nel futuro Anche su altri temi Non solo Sulla pandemia Perché Il mondo di oggi È tanto complicato E ci sono Tante cose Su cui riflettere Vero? Quindi Saluto a tutti Concludiamo Questo corso Spero che Vi sia Interessato E sarà Disponibile La lezione Sul Unigramci Università Popolare Antonio Gramci E vi Manderemo La Magari Tramite Giacomo La registrazione Della lezione Così Se vorrete Metterla Su Schierda Multimedia Ci farete Un grande Piacere E creeremo Un ponte Un altro ponte Tra l'Italia E la Argentina Un puente Muy bien Si Si Muchas gracias Y Espero Que podamos Podamos También Encontrarnos A disposizione También Para Lo que sea Muy contento De estar Acá Con Ustedes Próximo Volte In Italia Juan Próxima volta In Italia Si Esperamos Pero Yo también Vendré A Argentina Compliment Lo deseo Mucho Compliment A tutti Per lo Españolo Parlate Benissimo Muchas Gracias Es que Nos gusta El Español Si Muy bien Lo hablan Gracias Y hasta pronto Muchas gracias Hasta luego Un abrazo Un abrazo A todos Un abrazo Un abrazo Un abrazo Grazie Buonasera Ciao 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 Vania Ciao Ciao Buonasera Ciao Rita Ciao Buonasera Ciao 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 Buonasera Grazie a tutti.